Continua la preparazione dell'ASD Torres e ai nostri microfoni il centrocampista rosso-blu Fabio Cocco, tra sogni e speranze per il rilancio dello storico sodalizio sassarese. Un'avventura piena di stimoli, di emozioni, insomma, arrivo in una grande piazza dove spero di dare il mio contributo per riportare questa città in palcoscenici più consone alla sua storia. Per adesso abbiamo anche capito l'importanza di dove siamo capitati, insomma, una realtà che in queste categorie non ci fa nulla e appunto anche il calore che abbiamo visto alla presentazione è stata una cosa molto positiva. Speriamo di ripeterci anche sul campo e vediamo un po' come andrà. Sicuramente l'asticella è stata alzata anche dalla federazione che ha imposto i tre fuori quota che già di per sé avrà un effetto positivo, secondo me. Però rispetto all'anno scorso sicuramente non ci sarà l'ammazzacampionato che era il Torturi, cioè come poteva essere il Torturi lo scorso anno. Però ci sono tante buone squadre attrezzate che secondo me daranno vita a una bella guerra. Ma la Torres è? Eh vabbè, la Torres è la Torres, quindi dobbiamo cercare di essere noi l'ammazzacampionato.